Buonasera a tutti, mi chiamo Luca Taglia Fierro, vent'anni, cameriere, studente, modello. Ti dico solo una cosa, me la caca che ti faccio, verè? In questo video, una cosa che mi hanno scritto in miliardi di persone su Instagram dopo l'uscita della puntata, il mio vermicello è lungo, lo dico, intanto non lo metti. ...di vermicello, quindi ho uscito nel video il vermicello, c'è anche il titolo, c'è anche il titolo. Qua c'è una domanda alla ragazza che gestisce questo canale di YouTube, è vero il detto rossa di capelli vogliosa di... Non ci state? Ok. Direi di no. Direi di no. Direi di no. No, la diva del tubo ti ricaccia sulle palle, no? Eh, decogliona. Decogliona. No, la diva... Vinimi a decoglionare, così ti darò una cavigliale mentre che lo fai. No, la diva del pubo ti ricaja. Non, la diva del pubo è la tua. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.